Ok, cominciamo con il primo video dove scalderemo la parte inferiore del corpo per poi cominciare con l'allenamento vero e proprio. Cominciamo con un mezzo squat e slancio laterale della gamba. Cominciamo ad attivare anche le braccia. 5, 4, 3, 2, 1 e cambio gamba. Ogni esercizio dura circa 20 secondi per parte. Piccolo squat e via di slancio. Ok, adesso portiamo il tallone al sedere. Questo esercizio deve avere un ritmo abbastanza alto. Ok, ci attiviamo bene e facciamo salire la frequenza del cuore. Molto bene. Bene, adesso andiamo a toccare la punta del piede. Hop, 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 hop. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Ora, il busto è quello che dobbiamo immaginarci di disegnare una busto sul pavimento. Quindi apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Ancora. Hop, hop, hop. Ultime. E stop. Corsa conciata dietro. Alziamo, continuiamo ad arciare il ritmo. Bene, l'addome è contratto. Controllate la respirazione. E facciamo il sedere. Hop, hop. Molto bene. Ora, facciamo gli slanci delle gambe in avanti. Passo, passo, su. Passo, passo, su. Passo, passo, su. Molto bene. Su. Cercate di toccare la punta del piede. Se non la toccate, non è in distanza. Ok? Ok. Cambio gamba. Su. Passo, passo. Su. Passo, passo. Su. Passo, passo. Su. Ancora. Hop. 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 Molto bene. Adesso, allarghiamo gli attornamenti dei gambe. E facciamo una corsetta da una parte all'altra. Sporsatevi. Destra e sinistra. Destra e sinistra. Molto bene. Continuiamo. E calciando dietro. Le gambe adesso sono strette. E continuiamo a calciare. Hop. Molto bene. Ancora 4, 3, 2, 1. E stop. Ok. Adesso andiamo con un leggero squat. Ok? L'importante qui è che le ginocchia siano bene verso l'esterno e non verso l'interno. Ok? Non fate questo errore. Andiamo giù con il sedere e non con le spalle e la schiena. Non è questo. È questo. Molto bene. Adesso le retorsioni da un lato all'altro. Hop. 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 Baddobio è contratto. Lasciate cadere la testa. Ok. Andiamo con il zampi in zecca. Apro più. Hop. Hop. Quando si aprono le gambe, si aprono le doze. 2, 1. E stop. Molto bene. Adesso, gambe divaricate, mani pulizate e gonfio, sgonfio, gonfio, sgonfio. Hop. E stop. Allora. Ciao.